ciao fiorellini fiorelline adesso andiamo perché siccome prima sono uscita e sono andata a spostare la macchina perché oggi devono pulire quattro fori e allora portò la macchina però infatti non c'è la macchina qua e qua c'è l'erba ok adesso andiamo a prendere la macchina perché come che dobbiamo andare a viderbo e vado a prendere la macchina dove l'ho parcheggiata che muovi faccio vedere allora sono andata più giù sono andata qui vicino casa non si poteva parcheggiare perché quello dice tagliare l'erba è pure lì ha detto fatto do dai ha detto non lo sa vabbè se no giù verso dove sta a coppia così una signora fa e non lo sa se devono degli acqua di fantasia la vado a cita a parcheggiare la macchina e porto la mascherina mi ha fatto per i caluracchieri insomma niente adesso l'ho parcheggiata qua guardate ci stanno i fogli infatti che c'è la rimozione e noi stiamo andando giù verso io io con voi dico sempre voi andiamo perché io vi porto con me e va bene adesso stiamo andando giù ho preso una bustina per mettere i pezzi della fotocamera che è questa qua non so se si vede qua per mettere questi pezzi qua della fotocamera perché questa qua ce l'ha tre pezzi stavo dicendo perché questa qua io ci metto i pezzetti perché questa qua c'ha tre pezzi l'obiettivo quando io sbondo l'obiettivo questo è pe davanti il davanti e qui il coperchio del davanti quanto metto a registrare poi quando lo sbondo c'è una pelle obiettivo dietro quando lo sbondo e un coperchetto proprio per la fotocamera senza obiettivo perché siccome quando vado a registrare in giro così no e dentro i negozi non c'è che si può andare per esempio oggi dobbiamo andare a centro commerciale di viterbo e io lì non posso entrare e infatti dopo quando arriviamo su vedico sono arrivata e poi smonto la fotocamera che dentro il centro commerciale non la posso portare non ci posso registrare e allora perché telefonino facevo le foto roba così invece con la fotocamera si vede che già non posso portarla portarla allora la smonto e me la metto dentro la borsa così così tanto che la devo smontare e perché se no non c'entra con l'obiettivo questo così va bene adesso vi faccio giro la fotocamera e vi faccio vedere la strada ecco stiamo andando verso giù la macchina dove l'ho dovuta parcheggiare qui stanno qua da tutti vabbè ma sono tre anni e passa che faccio youtube prima lo faccio col telefono mi temi e mi prende una permata va bene poi dopo la sera io lo scarico su computer faccio i vlog vi porto con me veramente io sono andata come una vlog alle tre anni fa vedi qua ci stanno tante parrocchiere perciò non mi serve andare a civita mi sarà bloccato va bene e quando registro fuori la metto modalità automatica che infatti prima da inizia a registra me fa bianco e nero proprio quando clicco per registra invece a colori va bene oggi porta le scarpe che mi ha fatto per il calore e poi c'è pure uova che sta su la pubblicità dei video mia poi magari mi mandassero qualche collaborazione così vi faccio vedere pure quello che mi mandano va bene comunque stiamo andando giù stiamo arrivati giù la discesa quella è una chiesa e mo non so quanto dura perché giù stamattina faccio andiamo qua siamo quasi arrivati a prendere la macchina però dobbiamo andare qui dove stanno le righe perché qui c'era del giappone sotto ok vediamo qua ci sono le righe allora attraversiamo ok è qua giusta la macchina siamo quasi arrivati è una grande fatica a parlare con la mascherina aia che botto ha andato a cascata la fotocamera si è fotocamera o coperchio perché questo non l'ho messo dentro la bustina perché tanto ora arrivo e la spegno ci metto il coperchio dopo tanto mesi sono riuscita a impararmi a registrare dentro casa fuori dappertutto con la fotocamera va bene qui ci porto tante volte birino pure spasso però oggi non lo so se riesco a portarla a spasso perché devo andare a far spesa questo non lo so quando lo metto perché c'ho altri vlog da mettere ecco adesso vi lascio perché dobbiamo andare in macchina ecco adesso vi lascio una gran fatica a parlare con la mascherina questo qui è carino speriamo che regge mezza batteria oddio vabbè tanto non è che parlo tanto perché non posso parlare più va bene ora prendo le chiavi e vado a prendere i querini ragazzi ci vediamo ciò a dopo ciao a dopo ecco adesso sto andando a casa perché ho dovuto riparcheggiare qua giù che devono pulire la strada e non sono toccoso metto a caricare la batteria per riuscire scaricata ora siamo già fa caldo e vabbè mi faccio dire la strada poi quando siamo arrivati ve lo dico ecco qua abbiamo toccato le righe provozziamo le righe ecco ecco qua Siamo andati pure a merdona. Oddio, facciamo la salita qui. Ci vediamo dopo da andare a sala, sapete? Oddio, merdona. Allora, il ketchup, questo è l'aranciata, le patatine, il pane in orzo. Buon appetito, ciao a capo. Ecco, adesso è ora di cena e ci siamo cotti questi qua. Non mangiamo, buona cena e ciao a capo. Ecco ragazzi e ragazze, adesso abbiamo finito pure questo vlog, spero che vi è piaciuto e che vi mettete tanti like, iscrivetevi al mio canale, a questo e al canale di ASMR che metterò qua sotto, link come tutti i video. Buonanotte e ciao, alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.